Ulteriore passo avanti oggi per il progetto di Garda by Bike. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano del Rio si è infatti assunto l'impegno di inserire l'anello ciclabile del Garda nel sistema nazionale delle ciclovie turistiche. Il progetto è stato presentato questa mattina a Roma nella sede del di Castero delle tre regioni coinvolte e rappresentate da Mauro Gilmozzi, assessore alle infrastrutture e all'ambiente della provincia autonoma di Trento, Mauro Parolini, assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, Elisa De Berti, assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti della Regione Veneto. Il ministro ha confermato un preciso impegno ad assegnare all'opera nuove risorse statali, tra quelle previste per le ciclovie nella legge di stabilità 2017, risorse che si affiancheranno a quelle che regioni, enti locali e territorio saranno in grado di mobilitare al fine di completare l'anello. Lo studio di fattibilità è stato molto apprezzato dal ministro e si è deciso di proseguire con determinazione su questa strada, ha spiegato l'assessore Mauro Gilmozzi. I passi successivi ora sono la determinazione dei livelli di finanziamento e del cronoprogramma di progettazione delle opere. Il progetto Garda by Bike consiste nel completamento dei percorsi ciclabili e ciclopedonali esistenti sulle sponde del lago di Garda, che determinerà un percorso unitario di oltre 140 km, unico in Europa, collegato con la ciclovia del Sole e la ciclovia Vento, ovvero la dorsale cicloturistica del Po, e quindi con la prospettiva concreta, a breve termine, di offrire una rete di lunga percorrenza a scala nazionale di oltre 1000 km. Per quanto concerne il territorio della provincia di Trento, i tratti di ciclabile da realizzare sono sostanzialmente due, ovvero quello occidentale, che si connette con il realizzando tratto di limone del Garda, già finanziato con i fondi ODI per 7.640.000 euro, fino all'ingresso di Riva del Garda, che corre in parallelo alla Gardesana occidentale, dello sviluppo di circa 5,3 km. Quello orientale invece si connette al tratto Malcesine-Brenzone, già finanziato con i fondi ODI per 17.354.000 euro, dal confine con il Veneto all'ingresso di Torbole, che corre lungo la Gardesana orientale, di analogo sviluppo di circa 5,3 km. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.